Sì, c'è il punto di presenza di gara. Quante ore abbiamo viaggiato? 3-4 ore già. Siamo a pesce. Che state cercando di fare? Il tiro. Difficile. Ecco, qui sono venuto con un traccio. E non posso mettere la moto dì. Non c'è giù. 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 C'è giù, devo fare. Non c'è giù. È giù. È giù. Eccoci, 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 eccoci. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.